Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo ad approfondire la seconda linea della lettura generale che ho già pubblicato, la trovate comunque nella playlist ed è la linea che riguardava gli affetti, quindi gli affetti familiari, di amicizia piuttosto che le relazioni di coppia. Ho ripreso quindi le stesse energie, abbiamo la carta della luna e poi avevamo un 4 di pentacoli al contrario, un 10 di bastoni al contrario, un cavaliere di spade al contrario, la regina di coppe al contrario, la torre al contrario e il cavaliere di coppe. Allora, devo dirvi, vabbè il cavaliere di coppe è una carta che avevo chiesto io in più per spiegare meglio la torre, quindi poi comunque l'ho mantenuta. Devo dire che abbiamo una bella quantità di contrari, in effetti ragazzi è un po' come se ci fosse una sorta di energia un pochettino rallentata, diciamo così. L'energia generale comunque è quella della luna, vi ricordo. Di conseguenza potrebbe esserci una sorta di, siccome è collegata all'energia femminile, l'energia femminile è quella ricettiva, diciamo un po' più statica, si vede riflesso in quello che è la lettura avendo tutte queste carte al contrario. Diciamo che non è detto che siano poi alla fine tutte negative, andiamo a vedere poi con i mini tarocchi appunto di spiegarle meglio. In linea generale vi dico che partendo con questo 4 di pentacoli al contrario, il 10 di bastoni al contrario, sento che c'è bisogno di una sorta di distacco, probabilmente da una situazione familiare, da una situazione passata, perché avendo la luna si può parlare di qualche cosa di passato, per qualcuno potrebbe fare riferimento a una questione legata a una casa, una questione burocratica, se vogliamo così, da cui ci si deve un attimino allontanare. Abbiamo anche questo cavaliere di spade al contrario, sento che potrebbero esserci dei conflitti con i fratelli, piuttosto che con i figli, qui nel caso insomma ci siano delle questioni un po' tese, ecco il consiglio è di andarci con calma, perché quando c'è l'energia del cavaliere di spade al contrario si parla sempre di un'energia un po' arrogante, un po' troppo anche un'energia che in realtà, come vi posso dire, non tiene presente quelle che potrebbero essere gli avvertimenti o dell'universo o delle persone circostanti. Potreste essere voi nei confronti dei vostri fratelli e dei vostri figli dove date avvertimenti oppure li ricevete. Abbiamo poi anche questa regina di coppa al contrario e qui ragazzi sento che potrebbe esserci, la regina di coppe è sempre legata a una donna con un atteggiamento materno oppure è proprio legata alla figura della madre, però ecco in questo senso potrebbe essere una persona vicino a voi, diciamo nel vostro intorno sociale, anche da un punto di vista lavorativo. O potreste essere voi anche questa regina di coppe, sta di fatto che l'energia qui è un po' confusa, ma ha senso perché comunque abbiamo la luna che porta questi alti e bassi emotivi, questi… ci sono delle… come se ci fosse bisogno di incasellare, di riordinare le emozioni, sento. Perché comunque poi qui abbiamo la carta della torre al contrario, è un bel cavaliere di coppe. Quindi è un po' come se cambiassero certi equilibri. Può essere che siano equilibri esterni dovuti magari a un movimento esterno, anche se visto che il 10 di spade di bastoni è rovesciato è più un'idea che non un'azione concreta. Però comunque c'è qualcosa che qui a livello interno potrebbe scuotervi. Andiamo a vedere meglio, carta per carta, di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo, come sempre, che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. E per chi volesse poi contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, il quattro di pentacoli, al contrario, è spiegato da un re di bastoni e da un tre di bastoni. Allora, potrebbe far riferimento, come vi dicevo prima, a qualche questione familiare dalla quale c'è bisogno di allontanarsi. O una persona, considerato che è un re, può far riferimento a un padre, può far riferimento a una persona che è un capo all'interno di un gruppo. Può anche essere un gruppo di amicizie. Lo sento più da un punto di vista della famiglia, diciamo di origine o parallela, quindi quella acquisita attraverso i fratelli, ecco. Va bene, andiamo a vedere questo dieci di bastoni al contrario. Imperatrice e otto di spade. È come se ci fosse la necessità di allontanarsi da una figura maschile, ma non ci si volesse allontanare da una figura femminile. L'imperatrice la sento molto collegata con la regina di Coppe, è sempre la madre, è con lei che accudisce, che protegge. Parla anche di crescita, di progetti proprio, di espansione. Ma qui è un po' come se qualcuno non riuscisse a vedere chiaro in questa prima fase del 2023. Direi per quello che riguarda anche la relazione con il vostro partner, non solo per quello che è l'ambiente familiare a livello di origine. C'è qualche cosa qui che probabilmente o non va come vorreste, o siete voi che con questo otto di spade vi fate dei sensi di colpa, inerente a qualche cosa. Magari appunto inerenti alla figura materna, inerente a un qualche tipo di progetto che stavate facendo. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Abbiamo un 3 di bastoni, che è la carta successiva del 2, e un 6 di pentacoli al contrario. Qui c'è qualcuno, ragazzi, questo cavaliere di spade, vedete voi chi rappresenta nella vostra vita, se è un fratello, se è un figlio, o se voi in qualità di figli magari, perché potrebbe anche essere, ma sento che è una persona un po' troppo egoista, in effetti avere il 6 di pentacoli al contrario vuol dire che c'è un disequilibrio tra quello che si dà e quello che si riceve, e potrebbe proprio essere riferito appunto a questa persona, a questo cavaliere di spade. C'è voglia di espandersi, c'è voglia di andare oltre, lo vedevamo anche qui con l'imperatrice, ma qualche cosa qui, che potrebbe essere la stessa persona del radice di bastoni, come energia maschile, diciamo. Andiamo a vedere la regina di coppe, a temperanza al contrario, e la carta del matto al contrario, è come se qualcuno avessi bisogno prima di superare un percorso di guarigione, quando c'è la carta della temperanza, è sempre un bilanciamento che deve essere ricalibrato. La temperanza parla di portare in equilibrio quello che è la mente e quello che è il cuore, quindi con il matto al contrario sento che qualcuno ha un po' perso fiducia, mi verrebbe da dire nel divino, o in una persona specifica, o perché no, nella propria madre, perché qui comunque abbiamo una persona che si fa dei sensi di colpa, all'otto di spade parla delle gabbie mentali, delle prigioni mentali. E qui il dieci di bastoni è proprio la carta che vi dice che è ora di lasciarsi indietro i pesi, le aspettative degli altri, è ora di restituire le responsabilità al legittimo proprietario, non potete farvi carico. E questo lo sento molto a livello di coppia, ragazzi, qui potrebbe essere che sento come l'energia della suocera che è un po' impertinente, che è un po' troppo invadente, ecco, ed è la suocera, non lo suocero, o il suocero, adesso hanno sdoganato anche il suocero, va bene, andiamo a vedere la torre, otto di bastoni al contrario, e la sacerdotessa, fatemi vedere anche il cavaliere di coppe, imperatrice e imperatore, 4 di spade e 2 di coppa al contrario, imperatrice e imperatore, ragazzi, potrebbe trattarsi di una coppia proprio predestinata, io ve lo dico, se qui il movimento, il distacco, il discorso di cui abbiamo parlato fino adesso, è relativo al vostro partner o alla vostra partner, perché c'è anche un 2 di coppa al contrario, in un certo senso sento che è come se non ci fosse una reale unione da parte vostra, perlomeno questo è quello che appare, ma vi dirò che in realtà siete un po' voi che siete, diciamo, troppo immersi nelle vostre emozioni, voi vedete più nero di quello che è in questo momento, quindi, secondo me, adesso andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi, però secondo me, è solo una questione di tempo, per cui le cose, diciamo, si muovono, c'è comunque un cavaliere di coppe, c'è comunque una carta di, due carte di guarigione, che è vero, avete tanti contrari, io credo che qui ci sia veramente una paura, che blocchi, quando c'è la carta della luna, ci sono delle paure che ritornano dal passato, e vi ricordo che la prima carta era un 4 di pentacoli, che è vero, è al contrario, ma comunque una carta che parla di attaccamento, e poi comunque la sacerdotessa è un po' come se vi ricordasse di ritrovare la comunicazione interna con voi stessi, in questo caso fate attenzione ai sogni, perché sia la luna che la sacerdotessa sono collegati con il mondo del subconscio, e il nostro subconscio comunica attraverso i sogni. Andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi, perché in questa zona della lettura ho come la sensazione, anzi direi quasi a partire da questa zona della lettura, ho la sensazione che qualcuno qui stia un po' perdendo le speranze, per un qualche tipo di movimento, per un qualche tipo di... Attenzione, perché è come se qualcuno desse per spacciata una relazione. La torre in quella posizione lì, girata al contrario, è una bellissima carta, perché io sento che è come se voi, vedendo così nero, in un certo senso stiate pensando al peggio, però in realtà, è una vostra proiezione, è un vostro pensiero. È vero, magari le cose non sono ediliache con il vostro o la vostra partner, però insomma, non vanno neanche poi così male. Nel caso foste single, sento che qui, grazie a questa torre, entrerà una persona, che potrebbe essere il vostro imperatore, ma suppongo che dobbiate lasciare indietro prima questo re di bastoni, che ci sia prima questo distacco da dover fare, anche proprio a livello, mi verrebbe da dire di cerchi di amici, nel senso che bisogna proprio chiudere un capitolo per riuscire a far entrare questo imperatore nella vostra vita. Ok, andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi, e anche qui vi ricordo che se una cosa dovesse uscire nella lettura a febbraio, magari per qualcuno poi si avvererà a marzo o aprile, e per qualcun altro già a fine 2022. Quindi tenete presente questo, ok? Allora, abbiamo la carta della torre, ossia sì, qualche dinamica deve cambiare, ragazzi. Un sette di spade, wow! Un sette di spade al contrario. Allora, la torre parla sempre di una caduta del Lego. 9 di... Allora, gennaio, febbraio, marzo abbiamo un 9 di pentacoli. La morte ad aprile. Un sacco di trasformazione, ragazzi. Un sacco, perché la torre parla di ego, qualche cosa si destruttura, qualche sicurezza, qualche certezza potrebbe cascare all'inizio dell'anno. E perché? Perché abbiamo questo sette di spade. Al contrario, saltano fuori i non detti, i non visti, le proiezioni, ok? Ci si rende conto delle proiezioni che si stava facendo o a livello generale sull'amore o in modo specifico su una persona o una situazione. Il sette di spade, quando è il contrario, io lo sento una buona carta, perché è un qualche cosa che viene scoperto, come vi posso dire, no? Che viene smascherato. Abbiamo il 9 di pentacoli a marzo, che è una carta di forte potere personale, di forte amor proprio. Quindi vi dico, a marzo vi sento un po' a rinascere questa torre, probabilmente ci vuole, vi deve togliere dei pesi questa torre, ok? Proprio a livello anche di quotidianità. Difatti poi ad aprile c'è la morte. Qui si capisce che cosa lasciare indietro del proprio ego. Qui si inizia a lavorare su quello che è l'amor proprio, a lavorare sul vero sé, mi viene da dire, perché questa è una costruzione della mente, questo è un potere interno. È un po' diverso. È avere i chakra tutti in equilibrio. Questo è credere di averli, per capirci. La morte ci dice che si arriva a fare quel taglio che è necessario, diciamo, col passato, col vecchio io. Se fosse una relazione vi aiuta a fare il percorso. Vi sento sbocciare, diciamo, all'inizio della primavera, quando c'è marzo. L'inizio dell'anno è più un rendersi conto, un prendere consapevolezza, un ridimensionare l'idea che avete di qualcuno o di qualche situazione. E questo vi darà forza a marzo. Infatti ad aprile vediamo che qui si procede al taglio dei rami secchi. Andiamo a vedere maggio e giugno come terminano le... 4 di bastoni al contrario e 9 di bastoni. Beh, il 4 di bastoni, ragazzi, normalmente è una carta che parla di famiglia felice e di unione. Qui è al contrario, quindi probabilmente c'è bisogno di riequilibrare determinate dinamiche. Ma perché? Perché giustamente qui se si taglia con un'abitudine, poi dopo il terremoto ci sono sempre le scosse di assestamento, insomma, per farvi capire, no? Quindi c'è proprio il bisogno di ricreare quell'equilibrio. E terminiamo a giugno con un 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è una carta che in realtà mi fa capire che uscirete da questo periodo di trasformazione un po' stanchini, Ma molto più forti, molto più... Qui avete due 9. I 9 sono carte di iniziazione, quindi è un costruirsi le barriere, imparare a proteggere i propri averi, le proprie necessità, i propri bisogni, mi dicono. Qui c'è qualcuno che fino ad adesso ha ignorato i propri bisogni in favore degli altri. E invece qui c'è proprio bisogno di riconnettersi a se stessi, di capire che cosa è importante. Avete l'una e sacerdotessa. Ok, andiamo a vedere con i minitarocchi di spiegare queste carte. Ruota della fortuna e 4 di spade al contrario. Il 4 di spade era già uscito qui. Aspettate, questo ve le metto qua. Così si vedono di più. Quindi è un grosso cambio quello che vi aspetta a gennaio. Non fatevi spaventare dal fatto che ci sia la torre, perché comunque sì, come dico sempre, sono cambi un po' voluti dall'universo. Normalmente quando arriva il momento torre è un momento che destabilizza parecchio, ma che vi dà la possibilità di fare un reset generale. Vi dà la possibilità di reinventarvi. Quello è l'universo che è intervenuto, perché lì, nella via dove eravate, non eravate sulla strada giusta. E quindi ci manda questi momenti torri per re-indrizzarci sulla giusta strada. Tenete presente che qui avete anche una ruota della fortuna, quindi veramente qualcosa che è dovuto al destino e al fatto che lì non stavate bene. Quando il 4 di spade è girato al contrario, rappresenta un po' la carta o l'energia del masochista, di qualcuno che è consapevole, che non è pienamente soddisfatto di dov'è, ma che comunque non fa niente per cambiare il tipo di situazione che ha, per le regioni che siano. Però l'atteggiamento è un po' questo. Andiamo a vedere il 7 di spade. 7 di spade e diavolo. E un altro 7 di spade. E un fante di bastoni e un 4 di coppe. Ragazzi, spero che non sia così, spero di sbagliarmi, nel senso che poi sapete che le energie cambiano, è una previsione generale e tutte queste cose, però ecco, le previsioni dei tarocchi servono anche a questo. Cioè, preparatevi psicologicamente al fatto che gennaio e febbraio saranno molto impegnativi, soprattutto febbraio. Avete tante carte qua che parlano di manipolazione mentale, di bugie che vengono a galla, di controllo, di dipendenze, codipendenze, è una carta che parla di narcisismo, di egoismo, il 4 di coppe è una carta che parla di cecità, di qualcuno che non vede opzioni, c'è la torre prima. Insomma, preparatevi per tempo a questo possibile cambio di direzione improvviso. Ok? Tenetevi pronti, non lo so, un secondo lavoro, piuttosto che avere la risposta pronta in un'eventuale discussione, piuttosto che mi viene da dire controllate bene, fatemi vedere il nome di Pentacoli, controllate bene le vostre finanze, tenetele sempre sott'occhio. Sì, perché febbraio, febbraio ne scoprirete delle belle, può essere proprio riferito a questo fante di bastoni, ok? Qui sei di Pentacoli c'era due volte, anche qui, fate attenzione, guardate, potrebbe, se fosse un figlio, perché anche qui avevo l'energia di qualcuno un po' arrogante, un po' approfittatore, con questo cavaliere di spada è il contrario, quindi fate attenzione a non farvi rubare dei soldi, perché il set di spade ce l'avete due volte, sopra non c'è, no, ce l'avete due volte e normalmente quando al contrario fa anche riferimento proprio a dei furti, c'è il diavolo, quindi parla di illeciti, parla di tentazioni, di lussuria, di energia bassa, di rabbia, di tentazioni, di dipendenze, e poi c'è qualcuno qui che si sente nell'impossibilità di uscire da una certa situazione con il quadro di coppe. Quindi fate attenzione verso febbraio o marzo, insomma all'inizio dell'anno monitorate bene le vostre finanze, tenetele tenetele d'occhio, insomma. Poi in realtà a marzo la questione un po' si alleggerisce, nel senso che, ripeto, sento che con questo è come una ventata di freschezza, potrebbe essere qualche tipo di progetto lavorativo interessante, potrebbe essere una nuova prospettiva di una casa, perché no? Potrebbe essere un'eredità, ragazzi. Sarete abili con la gestione della vostra quotidianità, del vostro tempo? e mi viene da dire anche per quello che riguarda la disponibilità che avrete nei confronti degli altri. Andiamo a vedere la morte per piacere, grazie. Un 2 di pentacoli al contrario e un 3 di bastoni nuovamente che avevate già qui. No, ce ne sono due. Ah, 9 di pentacoli un'altra volta. Sì, io credo che qualcuno qua stia in un certo senso valutando due possibilità e che sia ora di farne morire una ai ragazzi perché avete la morte, qualcosa bisogna lasciare indietro. Per qualcuno si tratta di proprio dipendenza fisica perché è di nuovo il 9 di pentacoli ma è girato al contrario e con il diavolo può essere appunto dipendenza fisica, codipendenza affettiva, qualche tipo di dipendenza perché poi c'è anche la dipendenza dal lavoro, la dipendenza dall'approvazione degli altri, ci sono varie forme di dipendenza. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, di nuovo il cavaliere di spade al contrario e di nuovo l'energia della luna. è come se questa persona che sia un figlio che sia un fratello uno zio c'è una persona vicino a voi che in qualche modo vi condiziona fortemente e soprattutto vi smuove tutto quello che è la paura della luna le proiezioni le credenze limitanti tutto questo vedere nero qui dell'otto di spade andiamo a vedere il 9 di bastoni perché sento che comunque alla fine imparerete per bene a strutturarvi abbiamo un 3 di coppa al contrario e la carta dell'eremita si finirete un po' stanchi in realtà finirete un po' stanchini ragazzi in questo periodo ma in un certo senso sento che imparerete a non farvi influenzare dalle energie esterne il fatto che ci sia questo 2 di coppa al contrario il 4 di bastoni al contrario con la torre credo che per molte persone faccia riferimento al fatto che non ci sia una reale ufficializzazione o concretizzazione sia da un punto di vista verbale cioè ammettere che ci si stia frequentando magari piuttosto che il voler andare al passo successivo ma neanche da un punto di vista concreto sento che è un po' una situazione che sta nell'aria per diverso tempo però ripeto occhio a febbraio che secondo me è il periodo un po' più impegnativo per voi e avendo anche la carta della luna questo set di spade potrebbe rappresentare anche le vostre proiezioni cioè quello che voi vi aspettate dagli altri o quello che voi pensate gli altri pensino o debbano fare andiamo a vedere ancora un un oracolo degli angeli del cuore vediamo che consiglio vi danno è come se qualcuno qui volesse tenere nascosta o una relazione o una situazione per qualcuno ripeto fate attenzione alla situazione finanziaria perché quando c'è il set di spade al contrario parla proprio di furti o quanti allora torna ad essere libero è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita le dipendenze le costrizioni i condizionamenti ma guardate vi libera la torre state tranquilli poi abbiamo anima gemella sì questa persona è proprio la tua anima gemella e qui avevamo imperatore qua e l'imperatrice qui che è molto bello perché in questo mazzo vi faccio vedere sono uno la continuità dell'altro è bellissimo ok poi abbiamo lascia andare il tuo ex è tempo di ripulire le tue energie qui c'è la torre le proiezioni non tutte le relazioni sono uguali e poi pensa con ottimismo alla tua vita amorosa e qui vi metto qua di fianco questa pensare positivo e avere fiducia vi porteranno l'amore quindi lì sì ecco perché anche il matto al contrario parla di sfiducia quindi cercate di guardare alla vita con un'attitudine positiva pensate che comunque qualsiasi tipo di situazione vi capiti nella vita è l'universo che ve la manda o per reindrizzarvi o per darvi degli avvertimenti perché prima di far arrivare i momenti torre ci sono sempre almeno due o tre situazioni che vi mettono in allerta però siamo noi che con le nostre proiezioni non vogliamo vedere va bene amici della vergine io spero che la lettura vi sia stata utile fatemi sapere nei commenti come vi risuona io vi ringrazio di essere stati qui con me se volete supportare il canale potete mettere like potete iscrivervi condividere commentare lasciare una donazione ascoltare il video fino in fondo non saltare la pubblicità ogni tipo di supporto per me è importante io vi auguro un inizio del 2023 splendido vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao